Con il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, analizziamo alcuni punti delle prossime tornate elettorali e dei consigli regionali. Presidente, iniziamo con l'ospedale della Val d'Agri. Qual è il suo parere in proposto e la programmazione del Consiglio regionale? Che non c'è rischio per l'ospedale di Val d'Agri, per la funzione alla destinazione che ha sempre avuto di pronto soccorso. Che come l'ospedale ha bisogno di essere messo in rete alla pari degli altri due della provincia di Potenza e di Policoro per la provincia di Melfi, Lago Negri e Piro d'Aereo. Un Policoro, tutti dentro una rete per l'emergenza, per l'urgenza, in modo che possa dialogare con strutture come il San Carlo e il Dea di secondo livello come Matera e creare le condizioni perché mi sia più funzionalità, più certezza nella risposta a domande di salute. E rispetto alle leggi che oggi limitano molto l'equipamento del personale per la pubblica amministrazione sanitaria, più, diciamo così, altre limitazioni, noi stiamo provando a mettere in campo questa sorta di riorganizzazione. Lo faremo discutendo con le parti interessate, le comunità, le aree, i territori, i medici, il personale, tutto e con i comitati. Ecco, questo nostro metodo con il merito mette in campo un'iniziativa, a mio giudizio, molto coraggiosa ma necessaria, della legge basicare per evitare che altri, magari qualche commissario di turno ministeriale, venga a farcelo creando molti danni. Presidente Vitella, facciamo un resoconto di queste amministrative in Basilicata, un suo parere? Ma io in Basilicata forse anche a differenza di quanto è accaduto in Italia, vedo il centro-sinistro del Partito Democratico in maggiore salute, ci sono ovviamente, come sempre accade, luci e rompere, alcune aree di pubblicità legate molto alle nostre divisioni e alcune altre che si confermano, diciamo così, con un protagonismo del Partito Democratico del centro-sinistro. Poi vince il civismo e attraverso il civismo un partito come il nostro, il Partito Democratico, che è molto inclusivo, recupera questa partecipazione e la fa diventare valore aggiunto. E quindi un giudizio sommariamente positivo. Presidente, concludendo, naturalmente spaliamo di infrastrutture. La Basilicata attende il potenziamento della FAL, collegamenti di materia e potenziamento delle infrastrutture per la Basilicata. Qual è il resoconto ad oggi? Il resoconto è sicuramente positivo nei termini di rapporti e condivisioni anche su sostenibilità finanziaria dei programmi che abbiamo condiviso con il Governo nazionale, che è un mistero preposto. Per cui c'è il raddoppio di una FAL che va da Matera-Bari, ma anche i sostituti sostitutivi che ci collegano all'alta velocità sul ferro, da Potenza e da Matera. Stiamo battendo molto sulle grandi infrastrutture di aria, che collegano Matera-Potenza, poi la Murcia-Pollino, la Basentana e la Potenza-Melfi. E il quarto punto, un trattato significativo, è recuperare un treno più veloce, il primo possibile, perché si possa fare Potenza-Roma in tre ore. Fare questo con la freccia d'argento o con un treno proprio particolarmente più dotato, più specificamente spinto, sull'attuale tratta sanitaria, è una grande spinta e a mio giudizio il risultato, se dovessimo un treno come io auspito e credo, storico. Tra questi programmi, Presidente, anche il raddoppio FAL-Matera-Bari? Assolutamente, sì, c'è il raddoppio FAL-Matera-Bari, già per la verità, prevede l'atto, già in base di attuazione. Si tratta di capire, adesso come tutto questo pacchetto, anche più articolato, assume una dimensione pratica, fa qualità, per le grandi infrastrutture ci sono le progettazioni, si sta andando avanti, per il programma molto finito, questo restituisce centralità e come la nostra maggiore.